In Vangelo di oggi troviamo un episodio particolarmente affascinante e molto suggestivo anche dal punto di vista dei suoi riflessi pedagogici che è quello dell'incontro di Gesù risorto con i due discepoli di Emmaus potremmo dire che tutto l'episodio rappresenta nel suo insieme una sorta di paradigma di riferimento dell'atteggiamento del buon maestro, del bravo maestro Gesù innanzitutto si avvicina ai due discepoli i due discepoli sono in cammino, si sono messi in movimento si stanno allontanando da Gerusalemme dopo gli episodi che coinvolgevano Gesù stesso perché erano suoi discepoli e mentre si allontanano da Gerusalemme per un cammino peraltro di 11 chilometri quindi ci sarà un tempo disteso ecco che Gesù si avvicina e inizia a camminare con loro e questo è il primo atteggiamento dell'educatore, il primo atteggiamento dell'insegnante il primo passo è quello di avvicinarsi il secondo passo è quello di chiedere loro che cosa stanno vivendo che tipo di momento, che tipo di situazione, qual è la situazione che stanno vivendo e a quel punto i discepoli lo rendono edotto di ciò che gli è successo di ciò che è accaduto a Gesù stesso e da un certo punto di vista anche con un certo slancio fanno questa loro comunicazione perché dice ma come, come fai a non sapere come dire, ne parlano tutti, solo tu non sai cos'è successo e Gesù li ascolta e in questo secondo momento abbiamo di nuovo un atteggiamento che è paradigmatico per l'educatore e per l'insegnante che è l'atteggiamento dell'ascolto attento dell'ascolto rispettoso dell'ascolto di chi ci tiene a entrare nel tuo mondo vitale ecco però che a quel punto l'insegnamento di Gesù arriva esattamente lì dentro lì dentro dove lui si è andato a collocare cioè nei mondi vitali degli allievi e arriva in modo diretto questo insegnamento stolti e tardi a capire anche in quello che dicono le scritture e paziente Gesù pazientemente spiega il significato delle scritture e spiega qual è il valore delle scritture in rapporto alla missione di Gesù c'è poi l'ultimo passo del maestro l'ultimo passo che in qualche modo Gesù compie quando al termine di questo lungo cammino fatto insieme sta per congedarsi dai discepoli e loro lo invitano a fermarsi ormai scende la sera e nello spezzar del pane svela la parte più profonda del mistero che lui stesso ha presentato in quel caso nel caso di Gesù evidentemente svela se stesso se stesso risorto allo spezzar del pane ecco allora un'ultima indicazione di tipo pedagogico didattico il buon educatore il bravo insegnante è anche colui che tiene i misteri più profondi gli insegnamenti più significativi per i momenti in cui si è venuto a creare il clima di maggiore disponibilità quindi prima ti avvicini ascolti crei a tua volta le condizioni per essere ascoltato avvii il tuo insegnamento in modo puntuale sistematico paziente e poi nel momento in cui si è creata quella sintonia che è particolare significativa quello è il momento per gli insegnamenti più profondi più significativi che in qualche modo lasceranno il segno più incisivo nella mente nel cuore nell'anima degli allievi e con questo atteggiamento con questa postura mentale possiamo rileggerci anche il brano evangelico di oggi il brano del racconto dell'incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus e chiederci passo dopo passo quanto noi siamo capaci di avere a nostra volta un atteggiamento analogo con i discepoli